Giorgio, un'intervista per Sky. Oh Sky, Giorgio, all'inizio da... Allora... Buongiorno. Sono su Sky, sono su Sky. Ti vuoi rappresentare. Ce la fai tra cinque minuti, aria, tetti, iniziarla? Tanta ora è tutta asfalto fino a Bibbona. Cinque minuti, si va bene, no, mi sono un po' ripreso già. Mi sei ripreso. Giorgio è in forma. Non ti siamo... Veraviglioso ancora. No, non ti diri. È adattato che ce l'hai. Si, tanto. Troppo lì. Non ce l'ho trascuto. Non lo voglio... Grazie a tutti.